550, molto spazioso in cima all'edificio, appartamento con tre camere da letto, due bagni. Vuoi vivere in una delle migliori zone di David, vicino a Ronald Mall? Ecco un appartamento con tre camere e due bagni. Vuoi vedere cosa puoi ottenere con 550 dollari vicino al terronal? Appartamento, tre camere, due bagni. Qui quello che stanno vedendo è la sala da pranzo. In questa area ho la parte della cucina, guardala per renderti conto che è super spaziosa con l'accesso diretto alla lavanderia. Qui abbiamo accesso ad una stanza secondaria, una stanza principale. Passate a vederla. La vista di questo appartamento è molto interessante. Una vista ampia dalla parte più alta dell'edificio. Il terzo piano, un balcone collegato direttamente al soggiorno, alla camera principale. Al tramonto possono ammirare una splendida vista e scoprire la dimensione sociale. L'area sociale è vitale in questo edificio. Perché? Questa zona offre una vista a 360 gradi dell'area di David, garantendo un panorama completo e suggestivo. Siamo a soli 20 gradini da questa zona sociale. Se ti piace il posto, la posizione, il prezzo, contattami per prenderlo subito. Siamo a soli 20 gradi dell'area di David.